Siamo alla vigilia di Pergolettese-Mantova, parliamo con il capitano Mario Scetti. Allora Mario, una buona settimana di lavoro, arrivata dopo la bella vittoria di domenica. Sì, settimana sicuramente è arrivata in modo giusto, iniziata con i tre punti della scorsa domenica, sicuramente molto sudati ma meritati perché ci abbiamo creduto fino alla fine, infatti il gol del vantaggio del 2-1 arrivato alla fine è meritato. Adesso già si pensa a settimana prossima, domenica, con l'incontro con il Mantova. Il Mantova che non ha iniziato benissimo questo campionato? Sì, non ha iniziato bene, però sappiamo che è una buonissima squadra dentro a nomi giocatori di altra categoria. Noi aspettiamo la partita di Mantova già da diverso tempo perché comunque sappiamo che per la città di Crema, per i nostri tifosi è un derby vero e quindi cercheremo di affrontare la partita nei migliori dei modi come abbiamo sempre fatto e di portare i tre punti a casa. Secondo te quali saranno le difficoltà maggiori della sfida domenica? Ma diciamo che essendo comunque un derby, una partita che si giocherà secondo me a viso aperto, dovremmo stare attenti a loro dal metà campo in avanti perché sono molto forti, concedono forse qualcosa dietro ma davanti bisogna stare molto attenti perché sono veramente forti. Quindi particolare attenzione a voi i difensori? Sì esatto, a noi difensori, poi a tutta la squadra perché comunque non siamo solo noi difensori che difendiamo, l'abbiamo preparata, comunque la stiamo preparando nel migliore dei modi. Comunque il pergo è primo in classifica? Sì, il pergo è primo, quindi noi sono loro che devono temere noi e quindi speriamo di riuscire a giocare come domenica scorsa nel secondo tempo e di portare a casa i tre punti come è stato domenica scorsa.